Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia anche oggi un sacco di novità per quello che riguardano le ultime ore di Fortnite Oramai lo saprete ma non si fa altro che parlare del nuovo Minty Pickaxe Quindi un piccone molto molto interessante e anche molto particolare che fa parte di un... Non direi né di Halloween né di Natale ma vi spiegherò un pochettino come poterlo ottenere perché diventerà veramente super raro Parleremo anche ragazzi in questo video anche del Darkfire Bundle L'avete visto sicuramente nei miei video precedenti ma questa volta arriva la prima immagine ufficiale di una copia fisica per PS4 Che mostra per la prima volta in assoluto le skin e i picconi presenti in questo mega pack Che conterrà ben 13 oggetti da aggiungere alla nostra collezione E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati con il dietro le quinte di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi tengono compagnia nelle mie live su Twitch dalle 8 alle 18 Grazie mille ragazzi per esserci sempre e grazie anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone Super supporto per questi ragazzi per utilizzarlo Mi raccomando iscrivetevi ai canali e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima però la domandina io ve la devo fare ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto Ed è una domandina che non poteva che non arrivare Ma qual è la tua skin preferita del bundle Final Reckoning Il giudizio finale in poche parole Il bundle che è uscito ieri nel negozio acquistabile 17,99 Se non ricordo male 3 skin, 3 picconi Quale vi piace di più? La mia preferita è Willow Quindi in questo momento la prima che vedete dove ho indicato Quella un pochettino più a sinistra Molto bella però la versione è ragazza Non bambola di pezza Perché secondo me è davvero molto molto apprezzabile Quindi ditemi ragazzi qual è la vostra preferita Qua sotto nei commenti Ma quindi Ciancio alle bande E bando alle ciance Andiamo subito a vedere gli argomenti di oggi Ed eccolo qua Un'immagine esclusiva Che arriva dagli Stati Uniti Da parte di un ragazzo Che è riuscito ad ottenere questa card Che cos'è? Questa ragazzi è proprio un tagliandino Che raffigura nel fronte Il piccone minti Come vedete è un piccone molto simile A qualcosa che già avevamo visto Molti mi hanno scritto su Instagram Oh excuse Il piccone di Natale La caramella No Ci assomiglia Ci assomiglia abbastanza Ma se lo andiamo a riguardare un attimino Vedete che È qualcosa di un po' diverso La forma ovviamente identica Ma sia le luci che lo circondano Soprattutto anche quel fuoco verde Che è classico del fortnightmers Lo contraddistingue appunto Dall'ascia caramella Che è invece più natalizia Domanda da un milione di dollari Come caspita io ottengo Xiu da questo piccone Lo voglio Lo bramo Lo desidero ardentemente Non ho idea di come prenderlo Allure Fra pochissimo Fortnight rilascerà Delle card Che si chiameranno V-Bucks card Intanto vi dico Le prime notizie ufficiali Alcuni rivenditori selezionati Tra Stati Uniti Inghilterra Francia E Germania Ma non è detto che non arrivi l'Italia In quanto Il numero di rivenditori Che avranno queste card È in continuo aggiornamento Da parte di Epic Games Avrà la possibilità Di ottenere queste Quindi se per qualche strano motivo Andate al supermercato Andate al GameStop Vedete queste carte Beh Potrete Ottenere per un periodo limitatissimo Anche il Minty Pecax Come si fa ad ottenerlo Come vedete Queste sono card V-Bucks card Si chiamano proprio Arriveranno veramente A brevissimo E vi permettono Sono mega stupidi Quelli di Fortnite Vi permettono Pagando il cash Di prendere carte Che poi voi andate a riscattare Nella pagina Fortnite.com Slash Redem Ve la faccio vedere Un pochettino No qua non riuscite a vederla Qua c'è un altro link Riscattandole i primi O comunque per pochissimo Otterrete questo piccone Ci arriva un'altra notizia ufficiale Che vi dice In realtà Correttamente Il La pagina Scusate Non è Redem Ma è questa la pagina www.fortnite.com Slash V-Bucks Card Ci potete andare Già tranquillamente Adesso Vedrete che Vi farà accedere Con il vostro account E poi vi dirà C'è una V-Bucks card Ok Inserisci qua Il codice E' proprio questa La pagina Dedicata Le V-Bucks card Otterrete Nel vostro account I V-Bucks Che vi siete comprati E appunto Non si sa Quando Né per quanto Arriverà anche Questo piccone Che sicuramente Diventerà ultra raro Perché non sarà Mai possibile Ottenerlo Nello shop E quindi Solamente i più fortunati Ce l'avranno E andiamo avanti Con il prossimo argomento Ragazzi Veloci 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 Oggi non funzionavano I replay Quindi sono obbligato A mandare in giro Il mio personaggio Che corre Allegro Tipo Heidi Ma ecco Un'altra immagine Incredibile ragazzi Vi parlo Proprio Della prima Immagine Ufficiale Per le Colorazioni Quindi le coperture E per i picconi Del nuovo bundle Darkfire Il bundle Che uscirà Il 5 novembre Che avrà Al suo interno 3 skin 3 backpack 3 picconi 3 coperture E un emote Un totale Di 13 oggetti Devo dire Che allora Un'opinione mia Personale Parliamo un attimo Delle coperture Quella di Kevin Ci sta E' veramente molto bella Quella centrale Viola La vediamo Applicata Sugli scar Carina anche Quella rossa Ma non mi fa impazzire Quella grigia Non la guardo Neanche Quella viola Direi che ha Un suo perché Mi piace La sfumatura In nero Mi piace Probabilmente Saranno animate Queste Queste coperture Guardiamo Un secondo I picconi E qua Io ho un po' Una nota dolente Da fare Poi ditemi Se mi sbaglio Ci ha rotto un po' Cazzo Ste falci Nel senso E mi fai uscire La falce Con lo skull trooper E mi fai uscire La falce Perché adesso Arriva Quella del nuovo Del nuovo set Del nuovo bundle E mi ci metti Dentro la falce Normale E poi ne abbiamo Vista ieri Un'altra Tutta Dai Un po' Di novità Nel senso Ti piglio Ancora tre falci Va bene Però poi C'è scherzata La minchia Con tre Con le falci Quindi Di queste tre falci Bella Questi Questa qua viola Molto bella Sempre quella relativa A Kevin Potrebbe anche essere Passabile Quella arancione Quella bianca Non mi fa impazzire Ma comunque ragazzi Altre foto Del bundle Come vedete Questa è proprio Una copia fisica Del bundle E qui lo vediamo Per ps4 Probabilmente Acquistato In un negozio Di videogiochi Il game stop Non ne ho idea Non è ancora presente A quanto mi risulti Una copia E abbiamo anche La parte dietro Del suddetto Aggiungo anche Che ieri No L'altro ieri O ieri Non ricordo Abbiamo visto Il balletto Delle skin Del final reckoning Il balletto In realtà Che è questo qua Unification Praticamente Lui che mette Le due mani E forma Una fiamma verde Dovrebbe essere Il balletto Invece Del bundle Darkfire Quindi Questa sarà L'icona In gioco Balletto Ovviamente Non acquistabile In nessun altro Modo Se non appunto Con il Darkfire Bundle Ed eccolo qua Per chiudere Il video di oggi Un tris Di tutte e tre Le skin Che andranno a completare Appunto Questo nuovo pack In uscita Il 5 novembre Insomma ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Per aver guardato Anche oggi Il video delle news Mi raccomando Iscrivetevi in tanti Ai canali Noi ci vediamo Alle 8 In live su Twitch Ciao